Oggi siamo venuti qui per rappresentare e dare un segnale forte alla provincia, alla comunità locale della crescente esigenza che c'è dal punto di vista del mondo del lavoro e dal punto di vista del mondo del lavoro nel settore enologico di risorse umane formate che debbano crescere e formarsi nell'ambito dell'enoturismo. E dall'altro lato, in qualità di docente, siamo qui anche per far vedere che la scuola è pronta ad accogliere, a far crescere e a formare persone che possano essere attive e propositive e di supporto positivo per quanto riguarda il mondo del lavoro. Abbiamo avuto oggi qui presenti tantissime aziende enologiche e produttori di vino, abbiamo avuto qui presenti i presidi Slow Food, abbiamo avuto presente la Conf Cooperative e l'Università di Catania proprio per far vedere che tutti insieme possiamo fare la forza, che siamo in sinergia e che insieme stiamo cercando di creare questa filiera completa che possa dare a Catania una forte visibilità dal punto di vista enologico e una forte propensione all'accoglienza turistica. I turisti vengono in questo momento e non sanno quasi a chi rivolgersi, non sanno dove andare, non sanno chi è il loro interlocutore. Noi stiamo formando persone che il domani, anche oggi stesso perché già siamo con l'apprendistato operativi in tantissime aziende, domani saranno i primi a poter parlare con i turisti, a parlare in tutte le lingue, quindi inglese, francese, tedesco e a proporgli quelle che sono le eccellenze enologiche della nostra terra. Grazie. Grazie.